Sul finale, a tre giri dalla fine, a quattro, dice, adesso ti faccio vedere come si fa ad andare in moto Strappettino Una bella pettinata psicologicamente, penso pesante, penso per un geyser che... Bella a tutti ragazzi, bentornati e ben ritrovati in un nuovo video di Starpad Appuntamento con il mondiale motocross che fa tappa a Toshintal GP della Germania, ormai pista storica del mondiale Umida È un terreno abbastanza pongoso, abbastanza morbido Non so perché si rovina così tanto Morbido sopra, ma sotto poi quando si compatta è una cosa Secondo me la girano tanto, sapendo che è una pista comunque abbastanza compatta La girano tanto e sotto si scava, ci vengono le buche nei canali Quando arrivi a Toshintal le canali vanno almeno al ginocchio, dappertutto poi Parciato senza grosse modifiche, hanno fatto solo un dosso prima del dentre di Tomac Dove vediamo sempre delle smette zagerate Ecco, quello lo pettinano bene però Quello sì perché forse la salizione è un po' pesante Mix tra velocità e frenata in staccata, in salita Poi è bello dritto La cosa folla di questa gara qua secondo me è la partenza Lunga, lunga, in discesa Pollo, pensa questa partenza in discesa E un po' di banking nella curva Che però il banking della curva così Quando vai sul rettilineo si mette dritto Quindi quelli interni hanno anche una piccola salita nella curva sinistra Invece quelli esterni ci hanno È un po' strana, è un po' strana come partenza Toshintal ci si fa sempre male in partenza Troppo veloce, discesa così, mamma mia Ma andiamo a vedere qualche gara Mentre Alessio prega sul microfono Siamo pronti MX2, gara 1 Intanto ambientiamo un pochino la giornata Piovuto tutta la notte Piovuto anche un pochino la mattina Le ragazze mondiale femminile Hanno fatto la prima manche Molto fango Già il sabato Io quando il sabato ho detto Qua è un altro weekend di merda Invece, per fortuna Invece ci hanno messo una pezza Perché comunque è una pista che assorbe tanto Si vede Perché se no non avresti potuto fare una cosa del genere Gara 1 Partenza in test di Lucas Conan Che in subito un ritmo esagerato Possiamo vedere Lagenfelder in seconda posizione Con Adamo terzo E Ezing a quarto Il leader del campionato Kai DeWolf Si infila all'interno E guadagna un paio di posizioni Lagenfelder che quasi lo vediamo Ormai l'infortunio ce l'ha alle spalle Ormai è oltre a passare da un pezzo Tra l'altro gran premio di casa Quindi immagino bello gasato Zanchi partito bene Davanti a Evers Diciamo In corso di traiettoria è strano In ritardo per Evers Si, colpa di Evers Vogliamo un Evers che questo weekend Un filo in difficoltà Ma aspettavo Me lo aspettavo molto più tonico Visto la pista Visto Che le canali sono le sue forze Me lo aspettavo un po' più Prestante ecco Lucas e Kai DeWolf Iniziano a fare l'andatura Dando un buon distacco Agli altri piloti E in questo momento però Kai DeWolf Sbaglia un pochino il timing Di entrata nel canale Cosa sta facendo qua? Secondo me faceva fatica A tenere il ritmo di Lucas Io ho guardato Andando alla gara Mi è sembrato un pochino Si provava Vorrei stargli con lui Lucas era veloce molto E su me tribulava Quindi magari ha detto Una volta che ha sbagliato Ha detto va bene Anche perché abbiamo visto E abbiamo già detto più di una volta DeWolf è maturato tanto E un po' che non vince Ha vinto delle mangi di qualifica E lì Fa diversi podi Non perde troppo distacco Sta lavorando bene Quindi Lucas Konen Vince gara 1 Con Kai DeWolf Festeggiando con una candela Sull'arrivo Secondo Completa il podio Lagenfelder Con Adamo Quarto in gara 1 Partenza di gara 2 Con Il Pilota di casa Che si prende L'all shot Qui all'esterno di Adamo Una piccola incertezza Del pilota siciliano E Kai DeWolf Passa in seconda posizione Subito seguito Dal suo compagno di squadra Che comunque Non era tanto distante E passa anche lui Adamo Nella S Dopo la partenza Un DeWolf Che ci mostra Le sue abilità da impennatore Ragazzi Guardatelo lì Come sarpeggia Su quell'uschi Guardatelo È tutto La tiene stretta Molto morbido Molto morbido Tiene stretta con le gambe Penne su penne Quando gira così è bello Qui Anche Lucas Konen Attacca E passa Lagenfelder Una piccola incertezza Fa passare in terza posizione Adamo Adamo Va per terra E lascia di nuovo passare Lagenfelder Tra l'altro morbido Tranquillo Non è di fretta No 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 Kai DeWolf Sempre in questa curva qua Della pitlane Che storicamente È una curva infame È sempre infame Molto Mi ricordo Geyser contro Cairoli Quando Cairoli Stava ritornando al passo Dopo gli infortuni Qua aveva sbagliato Geyser Aveva passato Cairoli È un 180 che si rovina tantissimo Sì Lo interpreta in tante maniere A volte vanno tutti a sponda Arrivi da questi due dossi Che prendi super in velocità Strani È veramente una curva Ti allungano un po' La stacca Difficile Una curva difficile Kai DeWolf cade E lascia la leadership A Lucas Conan Che non ne aveva bisogno No assolutamente Kai DeWolf In uno dei punti più tecnici Della pista Questa pezza in discesa Con il dentino E pieno di canale Passa all'esterno Lankfelder Neanche visto proprio Neanche visto No 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 Gli ha cavato i adesivi gas gas Ma un piccolo errore Dalla possibilità Lankfelder Di ripassare Ma lo ripassa Sempre nello solito punto Un punto che Gli ha fatto anche così Con la mano Gli ha detto Dai Fra Salto dell'arrivo Lucas Conan Ci spara un bel oppo Sull'ultimo salto Ed è molto molto contento Per la sua sesta vittoria Di manche Consecutiva Tre gran premi in stack Che ragazzi Lo portano A schizzare Nelle parti fondamentali Della classifica di campionato Quindi tanta roba pericolosa Infatti guardiamo La classifica di campionato Kai DeWolf Primo con 396 punti E Lucas Conan Il secondo Con 337 Passando invece Alla MXGP Gara 1 Con Koldenov Che si sveglia Ci spara uno shot Gasato Ed è stato Veramente Veloce questa gara Tra l'altro Affiancato subito Sul primo dente Da un prado Che diciamo Che in queste condizioni qua Con questo tipo di tracciato Ragazzi La sua guida Finché il tracciato Non si appesantisce In queste condizioni esatte La sua guida Probabilmente è il top Non fa neanche fatica Non fa Probabilmente è il top C'è il buco nel casco Per le paglie Quando inizia ad appesantirsi Però ragazzi Diventa difficile La situazione Qua invece la gestisce bene Prado passa subito In prima posizione Durante il corso Del primo giro E qui vediamo Fevre Che Reduce dall'infortunio Nel suo GP di casa Diciamo Quello pollice lì Non sta mica tanto bene No In una pista così Il pollice sicuramente è importante I punti che battono sulle mani Ce ne sono Peccato Perché il ragazzo Fevre quest'anno Era partito con una stagione Non ha fatto picchi esagerati Non picchi della Madonna Ma sempre lì Quindi Possiamo considerarlo Quasi escluso Dalla lotta del campionato Considerando che sono In quattro A contenderselo Fuori Dopo un errore così Geyser passa Koyunov E si mette in Seconda posizione Un Geyser Forse un po' Troppo affrettato Forse si è agitato molto Nei primi minuti di gara L'ho visto affrettato L'ho visto rigido Nella guida Anche non Scioltissimo Diciamo È dovuto a questo L'arm pump Che ha avuto Indurimento delle braccia Che ha avuto Nel resto di Questa prima manche Che l'ha fatto Un po' retrocedere Adesso andiamo a vedere Infatti qua Vlanderen Va a passare Geyser Che proprio Ha preso La traiettoria L'autostrada Del Brenner Ha preso Un po' largo Si è un po' perso E Jeffro Che salta Qualche buca Di qua e di là Passa Jonas Si mette in quinta posizione Partito da merda Anche stavolta Però diciamo Che in questa pista qua Non ce lo vedevo assolutamente Lo dice anche lui Nella sua pista Ma Tonico Bello Tornando secondo me Con calma Un po' lento Ma arriva Un po' lento Coglia sto tecnico Esagerato nel frattempo Un po' lento Intanto la inserisce Nel canale E passa Geyser All'esterno Flanderen Tips over Come dicono gli inglesi Quelli forbiti Si appoggia Lascia passare Airlings Lascia passare Geyser Che poi viene subito Ripassato Un blander Che quest'anno ragazzi Molto ufficiale Bello gasato È partito un po' Sottotono nelle prime gare Ultimamente sta andando Veramente bene Mi piace Mi piace Mi piace il blander Se mi è piaciuto È un pilota che merita Secondo me Dal cuore Si Si impegna quasi troppo Che la va scivolare Qua su questo piccolo Pannettone E Geyser ripassa Qui vediamo intanto Il tracciato sfondato Come sfruttano Tutta la pista I piloti A fine della seconda manche Probabilmente Giravano lì sopra Non lo so Prado comunque Vince Questa prima manche In completa scioltezza Con un bel distacco Da Un secondo Airlings Molto bene Per il nostro Buon accorsi Che nel processo Di apprendimento Al 450 Abbiamo visto anche All'italiano Nella settimana scorsa Montevarchi Benato forte Si conferma Settimo Molto bene Ho già capito Come si usa Gara 2 Prado parte Un pochino più centrale E fa un all shot Chilometrico Prado ormai Sappiamo che è un perfetto Nelle partenze Qua la partenza Guarda Chilometrico È stato impersonante Cioè Cinque moto di vantaggio Geffro parte Veramente bene Invece stavolta E qua ho detto Bene Adesso guardiamo Un duello Geffro Versus Prado Masso che hanno messo C'è poco da fare Con le piste così Secondo me lo sanno anche loro Cioè Secondo me non era preparato Geffro a questa partenza Dici che Cazzo faccio Cazzo Cosa devo fare Era una mica Lui deve partire In genere Almeno al primo giro 4 o 5 lenti Decimo Devono andare via Decimo Quindicesimo Lì neanche uno ha detto Cazzo faccio Temporeggio E qui possiamo fare Un po' Di polemica Che poi Insomma È un po' A fine se stessa Anche Jonas Cade Purtroppo si rialza Con una spalla Infortunata Non sappiamo bene Cosa Si è successo E il dottore Arriva Lo porta in clinica Morbido arriva lui Sereno E cerca di rimettergliela dentro Non ci riesce Quindi Lui torna all'ospedale Va all'ospedale Cercano di rimettergliela dentro Anche Appena arrivato all'ospedale Non ci riescono Ok Poi gli fanno delle lastre Capiscono Che probabilmente Si è spaccato qualcosa Anche nella spalla Male Non è solo uscita Si è anche spaccato qualcosa Una cosa esagerata Io che sono Sono reduce da spalle È una cosa veramente assurda Tutto questo Non contenti È entrato Un'urgenza Che poverino È stato operato subito Naturalmente L'urgenza Ma il pilota Non l'hanno operato Fino al giorno dopo Sì Fino a ieri Ieri era lunedì Diciamo che Al lunedì A mezzogiorno Perché la clinica Era stanca Gli operai Cioè I dottori erano stanchi Un'urgenza precedente Ma diciamo che In un campionato del mondo Nel 2024 È fullia Penso Non avere una clinica Non avere una clinica In pista Adesso Nella MotoGP Già stata Con il dottor Costa Che l'ha portata lui E dal momento Che è esposto All'MXGP 18 milioni di camion Per attaccare dagli stand MXGP Sponsor Megasponsor Ovunque Penso che Dedicare un camion A macchinari Per lastre O Tac Qualcosa di veloce Da fare in pista E magari Anche la sala operatoria Perché comunque Nella clinica mobile C'era la sala operatoria Non vorrei concentrare Tutta questa polemica Proprio solo sul dottore Perché comunque Vabbè A parte che Errare è umano Poi se non ti danno Nemmeno gli strumenti Per riuscire a fare bene Il tuo lavoro Questo è quello che succede Insomma Chiaramente si sa Che la spalla Appena esce Che prima va dentro Meglio è Lui magari ha visto Una spalla fuori Così a occhio Adesso la buttiamo dentro Stavano E invece È andata male È andata male E quindi secondo me Devono organizzarsi Tutti i tre Piloti più forti Ci sono Perché c'è Prado in testa Secondo Erlinks E terzo Geyser Geyser riesce Quasi a dieci minuti Dalla fine Ad avere la meglio Di Erlinks Che non so perché Gli ha lasciato Tutto quello spazio All'interno Tutta la traiettoria All'interno libera Lo porta là Un pochino fuori E Geyser Bella Geyser lo vediamo qua Che si prende un rischio Tra l'altro Importante Ma sta tirando Lo vediamo al 100% qua E infatti si avvicina Tantissimo A Prado Che però Sul finale A tre giri dalla fine Quattro Adesso ti faccio vedere Come si fa andare in moto Strappettino Bella pettinata Psicologicamente Penso pesante Penso per un Geyser Che magari ti senti al 100% Ti avvicini Dice nian bene Arriva lui E ti dice No Ce n'è ancora di crostini Da mangiare Su queste piste qua Che male Quindi il weekend Finisce con Prado Geyser E Erlings Sul terzo gradino Del podio Con Vlanderen Con due quarti Si porta a casa un quarto E poi via via Tutti gli altri Cambia Nuovamente La classifica Del campionato Quindi La tavola rossa Per l'ennesima volta E quattro weekend Che se la spassano E' vero Va nelle mani C'è stato un bel passaggio di mani Io a Prado Due punti di vantaggio Quindi niente Un bel campionato Perché ci pensiamo Che siamo all'ottava prova E nelle ultime No no Ottava non la prova E nelle ultime quattro gare Sono passate Quindi Si prospetta Un proseguimento Bell'interessante Bene Di solito A questo punto del video Abbiamo le risposte Ai vostri commenti Che diamo noi Esperti Del settore E niente A questo giro qua Non abbiamo fatto la storia Quindi ragazzi Tra l'altro E' stato un weekend Molto 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 Complicato Con gare Abbiamo corso a Savignano Gara importante Era un tesi Si vedeva Era un tesi Si vedeva No Era un tesi In generale C'era della tensione Nell'aria E quella pista lì Sì Per me sempre La gara importante Per tutti e due Quindi eravamo lì Un po' così La pista che Ci scende Non ci scende Entrambi Quindi era un po' di La partenza Che è stato Tundire Quindi Era un po' così E' andata bene così Ieri abbiamo preso La giornata per Sciogliarla Quindi io ho lavato La moto L'esce Secondo me Ce l'ha ancora incrostata Io dovevo lavarla Ieri Ma quando sono andata a casa Da lavorare Ero devastato Perché ho capottato Io Domenico capottato Mio padre era in cortile Faceva i lavori Mi metto un attimo Sdraiato in cortile Che era lì No Ero sdraiato Ho dormito un'ora e mezza Per farlo Questo è stato il nostro weekend Adesso Facciamo un po' di pagelle E poi qualche conclusione Alla fine Via Appena tornato Sembrava dovesse spaccare In due il mondiale Ma ora Le uniche cose Che spacca Sono le sue gare Alternando Giri veloci Ad errori stupidi Evert 5 Periodo bianco Splendente Soleggiato Per il numero 96 Che mette a segno Un'altra domenica perfetta Continua a sognare Lucas Cohen 10 Come una vecchia tv Anni 80 Si accende E si spegne Guidato un po' Dal caso Fatto sta Che è sempre più vicino Erlings 7 e mezzo Che mette a segno Che mette a segno Che mette a segno Tribolazione massima In gara 1 Tra fango E braccia dure Ma come una bella pezza In gara 2 Riesce a perdere Meno punti possibili Geyser 8 Per terra C'è spesso Ed in più Quest'anno Non riesce proprio A guidare il cava Come faceva con la sua yama Seewer 5 A furia di smontare Montare tabelle rosse Tra onde e gas gas Avranno la nausea Stavolta la pioggia Non si mette in mezzo E questa ritorna Sulla moto numero 1 Di York Prado 9 Torniamo dalle pagelle Per qualche conclusione finale Mondiali aperti L'MX2 un po' meno Con 70 Quasi 60 punti Ma arriverà ad aprirsi Arriverà ad aprirsi Penso Spreando no per Kai Ma arriverà ad aprirsi Spreando no per Kai E sì per Lucas Tante gare ancora davanti Quindi è difficile Aver la costanza Cioè zero errori È quasi impossibile È quasi impossibile Comprato A due punti Da Geyser Con Erlings Che è sempre lì Bisogna stare attenti Perché è un attimo Che poi quando Quando vanno sulle piste Preferite di Erlings Inizia Trampo la sabbia Inizia 25-25-25-25 Inizia a martellare peso Quindi Lui vorrebbe vincere un GP Non ha ancora vinto È vero Ha scritto questo Su Instagram Quindi ragazzi Ci vediamo Settimana prossima Con il video del Mondiale E Un video recap Del National Perché sono successe veramente Un squanterno di cose Tante cose Forse era meglio commentare Il National E non il Mondiale La prima gara pallosa Seconda invece Dinamica Del National Quindi Tante cose Tante cose E Ci vediamo Ricordatevi di iscrivervi al canale Attivare la campanella Per i prossimi video Condividere il video Se vi è piaciuto E niente Noi ci vediamo Al prossimo Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti.